E anche oggi mi tocca spiegare. Salve a tutti amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare vi comunico che sono tornato su Twitter, quindi se volete seguirmi anche lì potete farlo attraverso il link che trovate nella descrizione di questo video. Troverete anche tutti gli altri miei social, ovvero Twitch ed Instagram, ma bando alle ciance. Iniziamo con la spiegazione di oggi. Allora ragazzi, così non va, così non può continuare. Inutile che ci prendiamo in giro, la situazione sta prendendo una brutta piega, ci sono dei problemi all'interno del Milan che persistono ormai da troppe partite e questi problemi andrebbero analizzati e non nascosti sotto il tappeto. Perché è da ieri sera che la gran parte dei tifosi rossoneri si sta concentrando solo sul gol annullato a Ben Nasser. Ragazzi, il gol annullato a Ben Nasser non può essere la sola spiegazione della sconfitta tremenda di ieri. È un gol regolare, che sia chiaro, perché questa cosa voglio sottolinearla, perché già come al solito gli interisti hanno iniziato a mistificare, perché loro, lo sapete, vivono in una realtà parallela rispetto alla nostra, in cui loro non sono mai favoriti in nessun modo, quindi hanno già iniziato ad inventare le loro puttanate, però questo è un gol regolare. Chiariamo, quindi è inutile che iniziate a inventarvi minchiate, perché con me non passa. Però non può essere la sola spiegazione alla sconfitta di ieri. Ragazzi, abbiamo un chiaro ed evidente problema nel nostro gioco offensivo. Non segniamo più. E la spiegazione che tutti danno è manca la qualità, cosa che personalmente in parte condivido, perché è chiaro che sulla destra abbiamo due giocatori che messi insieme non ne fanno uno, è chiaro che Brahim Diaz purtroppo è da settembre che non sta rendendo a livelli accettabili. Ieri sera è entrato benino, ma insomma, poca poca roba. Leao deve sempre inventarsi le giocate personali e fare tutto da solo e Giroud ha poi i palloni e spesso e volentieri gli vengono anche dati male. Quindi il problema c'è. All'inizio dell'anno non era così. All'inizio dell'anno il Milan segnava regolarmente due barra tre gol a partita. Non sempre, però il Milan era una squadra che veniva elogiata per il suo reparto offensivo. Vado a me a me memoria e all'inizio dell'anno i complimenti per il Milan erano tutti per la grande fase offensiva che riuscivamo a fare e gli uomini erano sempre quelli e quindi la qualità non era diversa e hanno sempre quelli gli interpreti. Quindi qualcosa è cambiato, qualcosa non sta funzionando e qualcosa è evidente che deve essere cambiata. Ovviamente c'è il fattore psicologico, sono aumentate le pressioni e questo rende le gambe dei giocatori nettamente più pesanti. È un chiaro segno di inesperienza questo. Cioè diciamo che molti dei nostri giocatori non sono abituati a stare in alto, in classifica, molti non hanno mai vinto, di conseguenza è chiaro che questo ti porta a soffrire di più la tensione e questo ti porta a non essere tranquillo sul campo, ti porta a prendere decisioni sbagliate e ti porta a sbagliare per l'appunto. Quindi il fattore psicologico c'è. C'è anche però un fattore tecnico, come detto, la qualità dei giocatori. L'anno prossimo questa squadra deve essere migliorata. È chiaro, serve l'esterno destro, serve il trequartista. Su quello siamo d'accordo, vi anticipo io. È chiaro che questa squadra sul mercato poteva essere costruita meglio. Io stesso sono il primo che in ogni cazzo di live dico continuamente che Messias è stato un acquisto sbagliatissimo perché è evidente che lì c'è proprio la qualità che manca. Cioè ieri Messias è entrato, ha sbagliato ogni pallone che ha toccato. Cioè è sulla fascia a destra, purtroppo, chiunque metti, il risultato è quello. Secondo me, vi ripeto, lì c'è da rifare un po' il tutto. C'è da togliere Messias, c'è da capire cosa fare con Salemaker, c'è da capire anche cosa fare con Brian Diaz. Quindi sì, c'è un problema lì che può essere risolto con il mercato, mercato. È chiaro, però mancano cinque partite e in queste cinque partite il mercato non potrà esserti d'aiuto. Di conseguenza dobbiamo inventarci qualcosa con quelli che abbiamo. E secondo me è lì che stiamo un po' mancando. Pioli, secondo me, è stato molto bravo fino ad ora, nella sua esperienza al Milan a costruire questa squadra, a costruire tutte le dinamiche di gioco che ci hanno portato lì dove siamo. Però ultimamente, almeno dal punto di vista offensivo, sta mancando qualcosa. Gli avversari hanno iniziato a leggerci meglio, hanno iniziato a conoscerci meglio, anche perché diciamo che dopo quasi tre anni di Milan, di Pioli, ci sta che gli avversari iniziano a capire un po' come fermarti e iniziano a prendere le dovute contromisure e io ho come la sensazione che davanti a queste contromisure prese dagli avversari, Pioli non sia più riuscito a costruire qualcosa di diverso. Ed in questo momento serve qualcosa di diverso. La nostra risposta alle contromisure degli avversari è stata la solidità difensiva. Solidità difensiva che è arrivata perché di fatto il Milan a parte ieri, ovviamente che è un caso isolato, cioè il Milan subisce pochissimi gol da tante partite ormai. Il problema è che, citando ormai l'ottimo Federico Buffa, l'immenso Federico Buffa, con questa mentalità abbiamo demineralizzato la nostra fase offensiva. Ovviamente non l'abbiamo fatto volontariamente come succedeva con il Milan di Allegri, riprendete quel video se non l'avete mai visto. è Buffa che parla di un Palermo-Milan del 2011, veramente storia. Però di fatto, secondo me, anche a livello inconscio è successo quello. Abbiamo puntato a diventare solidi, abbiamo cercato di diventare granitici, ci siamo riusciti, però abbiamo perso. Abbiamo perso a livello offensivo, perché ci manca qualcosa. Ci manca imprevedibilità, ci manca movimento. Cioè noi nelle ultime partite, purtroppo, abbiamo un attacco che è composto da uno tra Messias e Salemaker fisso. Chiaramente, sulla destra, addio. Il trequartista, che ormai è diventato che sì, quindi non un trequartista che ti crea l'azione, che ti dà l'ultimo passaggio, che svaria sul fronte offensivo, ma un mediano adattato a trequartista che al massimo può darti un po' di peso in aria e più inserimenti. Il problema è che non sta dando neanche quelli. Cioè, sostanzialmente, che sì, sta facendo quello che faceva da mediano, ma lo fa a venti metri più avanti. Abbastanza inutile. Leao, che è costretto continuamente ad inventarsi, c'è la giocata personale, non ha mai nessuno con cui dialogare, se non Teo Hernandez. E Giroud, che purtroppo, ripeto, è un gran centravanti, è un ottimo centravanti, però è un centravanti che rende al top se alle sue spalle ha gente mobile, ha gente offensiva, ha gente che capisce le sue giocate. E che, tra l'altro, va detto, non è un centravanti neanche particolarmente mobile. Quindi il nostro reparto offensivo delle ultime partite è stato questo. Non va, non funziona. Molto semplicemente, non funziona. Con questo modo di giocare, purtroppo, mi duele dirlo, con questi uomini offensivi non abbiamo dove andare. Non le vinceremo mai cinque partite se continuiamo a giocare con quegli interpreti lì in avanti. Bisogna cambiare qualcosa. E bisogna farlo adesso. Perché le stagioni girano sempre su queste intuizioni degli allenatori che di punto in bianco fanno quel piccolo stravolgimento che ti cambia tutta la stagione. Allegri, l'ultimo scudetto, lo vinse con quell'intuizione nel derby, ovvero spostare Sedorf mezzala per avere finalmente qualcuno in grado di costruire il gioco. L'anno scorso il Milan di Pioli riuscì a fare il filotto di vittorie nelle ultime giornate semplicemente allargando il turco a sinistra e mettendo Brahim Diaz sulla tre quarti. È questo che serve. In questo momento, purtroppo, i giocatori sono finiti un po' in un chiul de sac. E Pioli deve essere bravo a trovare il jolly. Deve essere bravo a pescare il coniglio dal cilindro. Deve riuscire a trovare quella variazione che possa permetterci di svoltare. Perché, ragazzi, è fattuale. Con questo modo di giocare non ce la faremo. Non ce la faremo così. Con questi interpreti sistemati in questo modo. Non ce la faremo. Che non vuol dire cambiare modulo. Io l'ho sempre detto, il modulo per me sono cazzate. Che alla fine 4-3-3, 4-2-3-1, se metti che si sulla tre quarti non cambia niente. Fondamentalmente quello è. L'unica cosa è che bisogna trovare qualche soluzione diversa proprio, non lo so, nel posizionamento degli uomini, nelle giocate. Qualcosa che ti dia anche una scossa dal punto di vista mentale. Perché poi questi, questi cambi qui servono anche a darti quel qualcosa di diverso che ti aiuta a svoltare mentalmente. noi in questo momento siamo apatici, siamo bloccati, ci manca entusiasmo quando giochiamo ed è evidente. Bisogna ritrovarlo e bisogna fare necessariamente qualcosa. purtroppo io non so cosa, ma io di fatto non sono l'allenatore del Milan. Pioli, e Pioli deve salire in cattedra nuovamente. Questo è. Piace o non piace, bisogna trovare un modo per sfruttare i giocatori non di livello eccesso, purtroppo, che abbiamo a livello offensivo. e bisogna farlo in fretta. Detto questo, fatemi sapere la vostra qui sotto con un commento. Sempre Forza Milan e ragazzi ci vediamo ad un prossimo video.